Rientro dalle vacanze preoccupante, contagi in aumento nei comuni vesuviani. Il comune di Torre del Greco nelle ultime 72 ore registra 5 nuovi casi di positività. Sono invece 6 le nuove guarigioni certificate. Continua così a mutare il bilancio dei contagi con 144 attualmente positivi di cui 9 ospedalizzati. Sono in aumento dunque i contagi nel comune Corallino. I dati di luglio infatti certificavano 94 persone positive. Per incentivare la campagna vaccinale il comune di Torre del Greco ha organizzato 4 appuntamenti dal 9 al 30 settembre finalizzati ad incentivare i cittadini a vaccinarsi. Nel comune di Torre Annunziata invece registrati 7 nuovi casi di contagio da Covid-19 a fronte di 210 tamponi processati con l'indice di positività che si attesta al 3,33%. Al contempo si registrano 25 guarigioni. Sono 60 i cittadini attualmente positivi. Anche Torre Annunziata registrano aumento dei contagi totali, visto che i dati di luglio certificavano 25 persone positive. Prosegue la campagna vaccinale che vede il 50% dei cittadini di Torre Annunziata con entrambe le dosi ricevute, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima si attestano al 61%. Nel comune di Bosco Reale in una settimana si sono certificati 43 nuovi positivi a fronte di 273 tamponi processati. Gli attuali positivi dunque si attestano a 83%. Continua anche nel comune di Bosco Reale la campagna vaccinale. Il 57% dei cittadini hanno ricevuto solo la prima dose, mentre il 45% ha completato il ciclo vaccinale.